Buongiorno, in questa parte vedremo gli intrecci fra l'opinione pubblica e la nascita dello Stato moderno, ovvero sia dello Stato che emerge successivamente allo Stato per Ceti, lo Stato medievale. Allora, innanzitutto, l'opinione pubblica nasce parallelamente allo Stato moderno. Cosa si intende con questo? Allora, lo Stato moderno è lo Stato che si forma successivamente al Medioevo e quindi ha lo Stato organizzato per Ceti e si articola a partire dal 1400 in avanti fino ad arrivare agli anni attuali, si articola acquisendo sempre nuove funzioni, sempre nuove caratteristiche. Quali sono l'opinione pubblica? In realtà si colloca in un luogo intermedio fra due altri elementi. Uno è per l'appunto lo Stato e l'altro è quello che viene chiamato il mondo privato, la vita privata. Cosa si intende con questi due concetti e come viene chiamato e che caratteristiche ha l'opinione pubblica in quanto insieme di valutazioni, di giudizi che non appartengono né al mondo privato né allo Stato. Allora, il mondo privato innanzitutto è il mondo dell'individuo, potremmo chiamare il proprio mondo interiore, il proprio senso di identità individuale, quel mondo a cui solo io ho accesso, nel senso che solo l'individuo può scegliere se rendere partecipe delle proprie emizioni e dei propri sentimenti le altre persone. Questo mondo privato riguarda anche appunto molte volte anche scelte impegnative in quanto si intende come vita privata sia le scelte magari di fondo che si possono fare, ad esempio l'appartenenza a una religione o altre scelte di questo tipo, ma come anche la vita privata di ciascuno di noi, matrimonio e amicizie e cose di questo genere. A polo opposto abbiamo lo Stato. La vita dello Stato non è contrassegnato da nessuno di questi elementi, è contrassegnato invece dall'esercizio del potere che il governo mano a mano e di volta in volta, secondo le forme che ogni Stato e storicamente si determinano, è il potere che viene esercitato per la difesa del territorio, per l'esazione delle tasse, come vedremo l'aspetto delle tasse e del bilancio dello Stato è un elemento fondamentale nell'evoluzione dell'opinione pubblica, nella nascita. Allora, mondo privato e Stato sono appunto ai due poli opposti e nel bilancio della forza l'individuo può essere schiacciato sostanzialmente dallo Stato, nel senso che è infatti appunto un uomo di potere, quale sia la forma di governo, è consapevole e sa perfettamente che in nome dello Stato le scelte individuali, le opzioni, le preferenze individuali possono essere sacrificate. Ad esempio, individualmente molti di noi possono essere favorevoli o contrari alla guerra, ma se un governo decide che uno Stato entra in guerra, le scelte individuali, le preferenze individuali, il disgusto o il piacere che ciascuno individualmente può provare all'idea di entrare in guerra, non ha nessun peso nella scelta del governo, perché c'è una ragione di Stato che lo sovrasta. Fra questi due poli che difficilmente possono trovare una conciliazione, abbiamo un terzo elemento che viene chiamato società civile e che si esprime molto spesso nell'opinione pubblica. Cosa si intende per società civile? Allora si intende qualcosa di diverso sia dal mondo privato sia dallo Stato. La società civile è costituita da individui che però si associano per interessi da un lato particolari, ma anche per interessi comuni o per lo meno della maggioranza. Ad esempio, tutta l'attività imprenditoriale, produttiva è legata a degli interessi personali, perché ciascuno di noi ha desiderio di migliorare la propria vita individuale, ma dall'altro richiede e implica la collaborazione e una serie di accordi, di scambi con altre persone. Questa è quella che viene chiamata la società civile, perché se vogliamo lavorare non possiamo comportarci in maniera incivile, ci costituisce quindi abbiamo una morale da seguire, un'etica da seguire. Dall'altro lato dobbiamo attenerci a delle regole generali dello Stato, dall'altro lato sono scelte individuali, personali, che ciascuno di noi può fare e che può muotare nel tempo. La società civile appunto si esprime, esempio di società civile sono appunto quando si va a lavorare, le associazioni di categoria, i gruppi istituzionalizzati riconosciuti come tali, tipo sindacati, partiti, no scusate, sindacati, gruppi di lavoro, polisportive, cioè tutte quelle gruppi sociali in cui gli individui si raccolgono a partire da un interesse personale che poi diventa un interesse collettivo, anche se solo di una parte della società. Questo come si esprime, in che cosa si esprime l'attività della società civile appunto nell'opinione pubblica, in questo giudizio che l'opinione formula, che la società civile formula a partire anche dai propri interessi o dagli interessi di un gruppo relativamente alle scelte di uno Stato. In particolar modo vediamo infatti che lo Stato, lo spazio pubblico, discute delle leggi. Nello spazio pubblico si discutono le leggi, ad esempio se noi abbiamo un'impresa discutiamo delle scelte economiche che il governo in un certo momento fa, relativamente ad esempio alla tassazione, ma tazze troppo elevate, troppo poco elevate, non ci sono incentivazioni, tutte queste sono opinioni, giudizi, valutazioni che i gruppi fanno che non possono diventare legge e di cui tuttavia il governante, chi governa, deve in qualche misura tener conto, perlomeno conoscere. In particolar modo l'aspetto interessante e che è caratteristico appunto anche della nascita dello Stato moderno è proprio questa idea, questa pratica della pubblicità delle leggi. Perché? Perché l'opinione pubblica si formula e nasce parallelamente al fatto che le leggi sono note, se queste non sono note è impossibile poterne discutere pubblicamente. La pubblicità delle leggi è uno degli elementi di differenza rispetto al Stato medievale. Allo stesso modo ed è cruciale il bilancio dello Stato, come vedremo il bilancio dello Stato è uno degli elementi storici fondamentali per la formazione dello Stato moderno e democratico quale noi lo conosciamo. Un presupposto concettuale e politico è l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge. L'opinione pubblica della società civile, che esprime i pareri dell'opinione della società civile, ha una sua forza, ha una sua imperatività nella misura in cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge. Quando non c'è una legge uguale pubblica a cui tutti quanti possono accedere, questa non si può parlare di un'opinione pubblica, ma di gruppi che hanno dei privilegi rispetto a dei gruppi che non hanno dei privilegi, dei ceti, delle caste che hanno delle esenzioni, godono di diritti speciali che li rendono diversi e che sono diversi dai diritti degli altri gruppi sociali. In questo senso appunto l'uguaglianza di fronte alla legge, che è un elemento fondamentale della nascita dello Stato moderno, è un altro degli elementi legati alla formazione dell'opinione pubblica. Da un punto di vista storico, l'ultimo proprio anche tecnico, la nascita della stampa, in quanto rende pubbliche le opinioni, è l'ultimo dell'interiore elemento che rende l'opinione pubblica intrecciata alla formazione dello Stato moderno.